Il Basso Molise ha dei nuovi guardiani dell'ambiente, enti locali, scuole volontari che, spinti dalla passione per il verde e animati dalla consapevolezza che la natura va tutelata per preservare la salute umana, oltre che di flora e fauna, si battono ogni giorno nel campo professionale ma anche al di fuori. E la protezione del paesaggio è la mission di Ambiente Basso Molise, l'associazione presieduta da Luigi Lucchese che promuove continue manifestazioni sul territorio come la pulizia delle spiagge, dei boschi, le lezioni per i bambini nel centro di educazione ambientale di Campomarino e che da 14 anni organizza il Fratino d'Oro, premio che prende spunto da un altro obiettivo perseguito dall'associazione, la tutela del piccolo volatile che nidifica sulle spiagge messo a rischio dalla pulizia dei mezzi meccanici. Proprio su questo ha incentrato l'attenzione lucchese nel corso della cerimonia di consegna dei premi avvenuta nella sala consigliare del Comune di Termoli e l'amministrazione locale è stata tra i destinatari del Fratino d'Oro per aver intrapreso un'azione di difesa del bene comune e collettivo, contribuendo in maniera determinante alla tutela e alla salvaguardia del Fratino. Entusiasti il sindaco Francesco Roberti, le assessore Rita Colaci e Silvana Cicciola, l'assessore Giuseppe Mottola e il dirigente del settore ambiente Gianfranco Bove. Da quando ci siamo insediati abbiamo cercato di tener conto, soprattutto in un posto turistico come Termoli, il valore aggiunto che può dare la natura, il rispetto per la natura, la biodiversità e soprattutto la valorizzazione di questo Fratino che in qualche maniera è un parametro che rappresenta, così come è stato già detto, non solo la biodiversità ma soprattutto lo stato di salute dell'ecosistema. Finalmente siamo riusciti a varare la delibera che tutela le dune perché il Fratino si insedia prevalentemente in quelle zone e qui parliamo di tutta l'area che va oltre la torre Saracena. Il territorio si presta alla riproduzione di questo uccello che nidifica nelle zone in cui l'acqua è pulita. Premiati anche l'Istituto Omni Comprensivo Guglionesi per aver posto in cima alla didattica le problematiche ambientali, Masserie Zappacosta che hanno sviluppato un modello imprenditoriale di successo, Chiara Valentini, manager che promuove politiche di sostenibilità ambientale, Giuseppina Picucci, insegnante che ha scelto di svolgere lezioni all'aria aperta e ancora Lucia Bruno, volontaria per il suo continuo impegno nella salvaguardia e nella tutela del Fratino, Nicolino Rulli, anche lui docente per la passione e la competenza con cui sensibilizza gli alunni, Michele Di Domenico, donatore storico Avis e consigliere del CSV Molise per l'impegno profuso in materia di salvaguardia e tutela della salute e della natura, soddisfatto anche per questa edizione il presidente lucchese. Avremo sette chilometri di costa a nord di Termoli che saranno tutelati e quindi non ci sarà più pulizia meccanica e quindi il Fratino vivrà in Santa Pace di Dio e non solo lui.